Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei continuare gli aggiornamenti sulla vicenda Evergrande. Penso che più o meno tutti sapete di che cosa si tratta, ma in estrema sintesi è un gruppo, un grandissimo gruppo di costruzioni cinese che circa un mese fa è entrato in fortissima crisi e questa crisi dovuta essenzialmente a tutta una serie di modello di business basato sulle costruzioni, sull'anticipo di soldi, soprattutto sul grande indebitamento, la cosetta leva finanziaria, ha fatto sì che quando questa grande bolla immobiliare in Cina è entrata in crisi per tutta una serie di fattori che poi nei video ho analizzato un po' più nel dettaglio, a un certo punto si è trovata nella impossibilità di ripagare i titoli obbligazionari, le cedole che doveva appunto agli investitori. E questo ha creato tanta paura, non tanto per la Evergrande in sé, su cui comunque avevano investito società di tutto il mondo, tra cui si diceva anche BlackRock, in parte Allianz, forse UBS, insomma si facevano tutta una serie di valutazioni, però fin da subito è emerso che in realtà non è che l'impatto anche nell'ipotesi di un default, di un fallimento sarebbe stato devastante fuori dalla Cina. Il problema è però appunto il rischio del cosiddetto effetto domino di questo eventuale fallimento. Si vedeva appunto che tutto l'intero settore delle costruzioni cinese seguiva un po' questo modello di sviluppo e poi come magari c'è l'euforia irrazionale a volte per cui diciamo così si investe senza controllo, se si diffonde il panico nei mercati c'è il rischio che travolga anche società magari sane finanziariamente a posto, ma che magari trovandosi senza liquidità, senza nessuno che presta denaro, anche pur essendo la società sana, si rischia appunto il crollo. E quindi questo sembra lo scenario che sempre più si stava materializzando in Cina. E avevamo visto che già erano partiti alcuni fallimenti o comunque tensioni finanziarie di altre società cinesi, sempre nel settore delle costruzioni che si stima vale da circa un quarto o anche forse un terzo dell'intera economia cinese. Quindi è immenso all'interno della Cina. Avevamo visto alcune statistiche, per esempio che nell'arco di, mi pare, tre anni soltanto, tre, quattro anni, la Cina aveva consumato molto più dell'intero consumo di cemento degli Stati Uniti di tutto il ventesimo secolo. Quindi qualcosa di impressionante è il settore delle costruzioni in Cina. e quindi una crisi di questo sarebbe terrificante per l'intera loro economia e si teme anche per l'economia internazionale. Appunto il fallimento di altre società o comunque tensioni finanziarie stavano sviluppando tutta una serie di paure anche appunto del fatto che poteva iniziare questo contagio al di là poi della Evergrande. E diciamo eravamo rimasti qua. Poi era uscita la notizia qualche giorno fa appunto che Evergrande avrebbe ripagato a sorpresa una cedola diciamo per le obbligazioni che erano in scadenza di circa 85 milioni di dollari per cui questa notizia è stata, ho visto molto pubblicizzata anche qui in Italia così dando la notizia in sé però quasi a lasciare intendere che era tutto risolto che insomma tiriamo un sospiro di sollievo e va tutto bene. Io diciamo ecco quindi ho voluto aspettare per fare un video di vedere poi se effettivamente magari la situazione si fermava oppure se invece ecco questo effetto valanga, questa palla di neve che scendeva e diventava sempre più grande e continuava appunto a scendere giù per la montagna. Ricordo, questo è un piccolo dettaglio autobiografico, io avevo l'abitudine quando ero più piccolo di collezionare articoli di giornale soprattutto quando erano trionfalistici, ce n'avevo ancora uno di quando ci fu il fallimento Parmalat in cui proprio si titolava su questo, mi ricordo che giornale fosse ma insomma dice il bond è salvo perché avevano fatto un pagamento di una cedola quando già c'era timore che ci poteva essere un fallimento poi ci fu questo pagamento quindi come per dire ecco è tutto a posto, state tranquilli e quindi ricordo questo titolo il bond è salvo e a piazza affari finisce il calvario e poi insomma diciamo la storia di com'è andata la Parmalat la sappiamo tutti invece però ecco c'è questa tendenza della stampa, molti lo dicono anche giornalisti di dire noi abbiamo una responsabilità di tranquillizzare i mercati perché temono che dice se si diffonde il panico anche su notizie vere poi si crea questo effetto di aspettativa per cui magari si scatena il panico che può avere una logica, essere più o meno condivisibile ma il problema è tante volte qual è? Che i cosetti insiders, cioè quelli che hanno le informazioni se si cercano di tranquillizzare gli investitori spesso loro vendono poi le notizie alla fine escono perché se ci sono dei problemi strutturali vengono a galla e quindi ecco quel tempo che così a volte la stampa fingendo senso di responsabilità così cerca di far guadagnare, lo fa guadagnare a quelli dentro tante volte che poi vendono diciamo ai piccoli investitori che poi rimangono come si dice col cerino in mano ecco quindi adesso non è che faccio paragoni tra la Parmalat Evergrande però mi ha ricordato così questo stile un po' così di tranquillizzare quella vicenda poi magari effettivamente la situazione si riprendeva oppure no quindi ecco ho voluto aspettare qualche giorno e purtroppo le notizie che stanno emergendo sembrano così un po' confermare diciamo l'idea e ho detto di due filoni, quello diciamo che tutto si sistema e quello invece che purtroppo la situazione continua a peggiorare e per ora sembriamo più sempre su questa strada per vari fattori intanto perché è uscito proprio due giorni fa un articolo interessante così anche di curiosità del Wall Street Journal che appunto rivelava come Evergrande aveva venduto due dei suoi jet aziendali due Gulfstreams e starebbe addirittura cercando di vendere un Airbus quindi per appunto così cercare di rastrellare disperatamente soldi per fare questi pagamenti e questo dà ai mercati un senso di a volte paura perché magari così questo pagamento della cedola che aveva per lì tranquillizzato tanti potrebbe anche solo essere così un tentativo disperato di tranquillizzare i mercati, guadagnare tempo e sperare magari di avere credito bancario per cercare poi di vendere i cosiddetti asset nel senso l'attivo, i palazzi che loro hanno quindi Evergrande starebbe cercando di prendere tempo il problema è che questo panico diffuso appunto come dicevo si è steso anche ad altre società e proprio due giorni fa è arrivata la notizia che un altro gruppo abbastanza importante perché comunque sarebbe il venticinquesimo costruttore della Cina ma insomma comunque di una certa importanza Kaisa starebbe in fortissima crisi e non sarebbe in grado appunto neanche lui di ripagare una cedola in scadenza quindi purtroppo ha dichiarato appunto giovedì che sto leggendo qui che praticamente la sua unità finanziaria avrebbe saltato il pagamento a un diciamo un fondo di gestione quindi si alimenta la paura il cosiddetto credit crunch che era un termine che si usava per la crisi di Lehman Brothers cioè quella situazione in cui magari i gruppi non riescono più a avere quel credito quella liquidità sufficiente anche per far fronte a pagamenti scadenza al di là poi tante volte della loro reale situazione economica che magari può anche essere buona ma se loro non hanno la liquidità al momento ecco perché credit crunch quindi non hanno a credito la liquidità che magari gli serve per pagare una scadenza si trovano formalmente falliti e non è una situazione solo di chi è in crisi perché basti pensare che gli stessi stati quando magari scade un titolo di stato hanno delle grosse scadenze spesso emettono nuovi titoli soltanto per ripagare poi con quei soldi i vecchi investitori quindi purtroppo è una pratica comune però se si diffonde il panico nessuno è disposto a prestare alle società tante volte senza neanche più distinguere quella buona da quella cattiva e questa però è una situazione pericolosissima e è questa la ragione per cui poi a un certo punto dopo la crisi di Lehman Brothers all'inizio il governo americano e la Federal Reserve non erano voluti intervenire ma dopo sono intervenuti diciamo inondando il mercato di liquidità la ragione era questa perché a un certo punto si rischiava la distruzione totale anche delle banche sane e questa situazione appunto per ora starebbe continuando in Cina è interessante anche un grafico di Bloomberg che faceva vedere come tutto il settore delle costruzioni e quindi diciamo delle obbligazioni emesse da questa società in crisi è in fortissima tensione finanziaria e c'è in generale un indice che racchiude invece le cosiddette obbligazioni junk bonds cioè diciamo le obbligazioni spazzatura ma inteso per spazzatura quelle un po' più rischiose ma anche più redditizie l'indice delle obbligazioni junk bonds cinesi fino a poco tempo fa vi dico preciso fino al 2019 2018 così erano intorno i rendimenti al 5% quindi insomma fino a circa due anni fa più o meno la situazione era tranquilla cioè rendevano circa un 5% in media queste obbligazioni cinesi bene adesso sono arrivate oltre in media il 21% di rendimento cioè significa che il prezzo di mercato è crollato al punto tale che il rendimento è salito al 21% quindi è quadruplicato è un segno di terrore del mercato si vede questo grafico che proprio diventa verticale nell'ultimo periodo dando un senso della paura che si sta diffondendo e che neanche il pagamento Evergrande per ora ha tranquillizzato soprattutto perché stanno continuando come dicevo appunto questi diciamo queste dichiarazioni di vari gruppi che non sono in grado di ripagare i debiti perché non riescono ad avere credito ma comunque fa capire la gravità della situazione ovviamente Kaisa è come oltre fantasia io ne avevo citate alcune principali ma non sono ovviamente le sole qui per esempio per dire anche il livello di paura considerate anche che il titolo in borsa di Kaisa ha perso soltanto giovedì il 15% ma praticamente si è dimezzato di valore quotato a Hong Kong era quotato a circa 2 dollari ad azione e adesso è a circa un dollaro ad azione e ha perso tutto questo nel 50% del valore in un solo mese quindi fa capire il livello di paura che c'è lì e chi c'è come poi vedremo alla fine del video c'è timore che possa diffondersi anche in occidente anche se vedremo come e perché nell'ipotesi che si fanno ovviamente tutto così scenari ipotetici ma come dicevo appunto le società sono varie quindi alcune obbligazioni di Kaisa sono crollate di valore oltre le azioni per esempio praticamente erano quotate sostanzialmente alla pari fino a pochissimo tempo fa e adesso praticamente si comprano a meno della metà del valore nominale quindi per far anche se magari rendono il 6,5% per esempio un bond a scadenza dicembre 2021 quindi adesso però la paura è tale che si comprano la metà che è qualcosa di molto molto preoccupante e come dicevo diciamo Kaisa è una società abbastanza importante ma ce ne erano varie insomma ne venivano citate varie adesso non sto a dirle tutte tanto diciamo è abbastanza irrilevante nel senso di quello che dicevamo però insomma il problema è che appunto si sta diffondendo a macchia d'olio a tantissime società di costruzioni settore che vale circa un quarto un terzo dell'intera economia cinese e che ha un indotto immenso ovviamente in tutto il resto dell'economia nella produzione eccetera era un po' il motore dello sviluppo economico cinese in realtà e quindi ecco è una situazione che sta continuando e che sta molto preoccupando come dicevo i gruppi sono numerosi vediamo quindi quali conseguenze possono avere in Cina ma soprattutto da noi perché uno dice vabbè a certo punto chi se ne importa di quello che accade lì ma come può impattare su di noi allora diciamo che qui si va su vari scenari ho letto molto in questi giorni su alcune ipotesi il problema essenzialmente e lo scenario secondo me può più così da tenere sotto controllo anche se ancora non sembra esserci un segnale in tal senso è quello economico del commercio internazionale monetario come poi spiegherò il perché il problema è che essendo così grandi il settore immobiliare in Cina e creandoli indotto c'è il rischio che mandi la loro economia in forte recessione anche perché lì stanno continuando anche piccoli focolai in varie zone della Cina in varie province quindi comunque c'è anche questa situazione che si aggiunge poi a questa devastante economica dell'immobiliare quindi di tutto il settore finanziario e bancario un'eventuale forte recessione della Cina potrebbe avere due grandi impatti da un lato ridurre la produzione cinese mandare la loro economia in crisi e quindi diciamo ridurre anche la produzione perché magari molte imprese chiuderebbero ci sarebbe un rallentamento dell'attività economica e quindi anche della produzione di conseguenza i beni che loro producono a basso costo e con molta efficienza che poi consentono a noi di essere pagati pochissimo aumenterebbero ulteriormente di valore nel senso di costo più di valore in un contesto che già conosciamo di alta inflazione con un alto costo delle materie prime che i stessi cinesi pagano quindi chiaramente si ripercuote già sul prezzo un alto costo della produzione dovuto anche al costo dell'energia delle materie prime energetiche dell'elettricità che anche lì avevamo visto in più se ci sono meno imprese meno concorrenza meno massa di produzione di merce quindi minore efficienza anche lì i prezzi aumentano e questo rischia di ripercuote aumentare molto l'inflazione da noi considerando che la cina è la fabbrica del mondo e quindi questo sarebbe il primo impatto il secondo impatto potrebbe essere anche per tutti quegli stati che importano in cina cioè esportano verso la cina perché noi siamo abituati a pensare alla cina come un grandissimo esportatore in particolare esporta merci per 2,5 circa trilioni di dollari all'anno ma in realtà importa merci per importazioni insomma per 2,1 trilioni di dollari all'anno quindi comunque seppure ha un surplus molto molto importante non è che esporta e basta e non importa e ciò chiaramente avrebbe un impatto molto molto importante per tutte quelle imprese anche europee che anche italiane ovviamente che esportano verso la cina anche perché chiaramente soprattutto il settore del lusso il settore tutta una serie di beni di consumo della moda di alto livello che venivano esportate là comincerebbero ad avere problemi proprio in caso di crisi economica di questo tipo finanziaria che andrebbe a colpire la classe media la classe medio alta o anche proprio i ricchi cinesi che però da un lato si ritroverebbero nel giro di poco le loro azioni valere quasi nulla e quindi dei loro immobili perché molti hanno investito nell'immobiliare e quindi chiaramente spenderebbero meno insomma in giocattoli costosi ecco e dall'altro proprio investimenti delle aziende anche la Germania esporta moltissimo in Cina e chiaramente tutto il discorso dei macchinari del beni anche industriali sarebbero meno richiesti e questo può avere un grossissimo impatto da noi considerando comunque che ovviamente cambia l'impresa in presa quanto esportano lì ma già la situazione qui economica non è buona in più diciamo se anche là dovesse crearsi un problema dovuto a questioni endogene loro sarebbe un'ulteriore questione da tenere molto sotto controllo soprattutto per singole imprese anche perché appunto il rischio è che questi grandi miliardari o anche queste imprese trovandosi in forte crisi finanziaria non avendo credito dalle banche avendo bisogno tante volte per così far fronte agli impegni finanziari di racimolare nel vero senso del termine dei soldi si troverebbero magari anche a fare delle svendite di grandi pacchetti azionari di magari quindi anche in Europa o negli Stati Uniti se li detengono di grandi proprietà c'è stato il caso così legato alla Evergrande dell'Inter per esempio del cinese che diciamo avrebbe comprato l'Inter e che poi lo starebbe vendendo appunto perché sarebbe finito anche lui dentro la crisi Evergrande e così per tanti ovviamente anche meno noti uno di voi sui commenti mi aveva fatto presente era così una nota interessante ma che rende l'idea appunto di come tutto è collegato cioè una cosa che avviene in Cina magari ha ripercussioni nel calcio di qua e ovviamente riguarda un po' tutto quindi questo potrebbe essere un grosso problema soprattutto nei prossimi mesi se questa situazione dovesse continuare a peggiorare anche perché a quel punto è sempre più difficile se si diffonde a più società fare una previsione di dove e chi potrebbe essere impattato su Evergrande più o meno era una società unica hanno cominciato a fare delle ricerche vedendo chi erano i principali creditori magari di titoli emessi dalla società eccetera hanno visto che c'erano anche dentro dei gruppi appunto come si diceva BlackRock Allianz eccetera in piccola parte ovviamente ma se si parla di tantissime società cinesi di banche eccetera è molto più difficile fare una previsione e un quadro del rischio quindi anche quello va tenuto sotto controllo perché è sempre più difficile appunto da monitorare e prevedere quindi anche questo è un aspetto inoltre c'è anche chi alcuni analisti facevano notare un aspetto interessante che dicevo monetario e cioè un paradosso paradosso per cui il dollaro americano in momenti di crisi potrebbe aumentare di valore apprezzarsi invece che come magari uno potrebbe pensare perdere valore questo può sembrare un controsenso qualcuno ricorderà nel 2008 quando ci fu la crisi Lehman Brothers e così a un certo punto il dollaro aumentava di valore uno dice ma come hanno una crisi nera il dollaro si apprezzava rispetto ad altre valute le euro e altri e questo in realtà è spiegato dal fatto che soprattutto se la crisi è estera ma anche interna comunque a un certo punto rimando al video di Redaglio sulla macchina dell'economia comunque cercando di banalizzare si riduce il debito diciamo il credito il debito nel sistema a quel punto per ripagare quei debiti in scadenza che non vengono rinnovati servono dei dollari e quindi aumenta la domanda di dollari e so sì anche all'estero se le società cinesi per far fronte alle scadenze non riescono più ad avere credito devono ripagare tutte quelle obbligazioni molte le quali è messa in dollari oppure comunque devono vendere dei titoli per racimolare dollari in estrema sintesi la domanda di dollari a livello mondiale aumenta e quindi il dollaro si apprezza a livello internazionale ma può creare anche questo dei grossi squilibri a livello di commerci internazionali considerando che circa il 70% di tutto commercio mondiale ancora è fatto in dollari quindi comunque ha un peso ancora importante come valuta mondiale seppure lo sta pian piano perdendo ma ancora ha un peso preponderante e quindi anche considerando anche i volumi di commercio che la Cina fa sia in importazione che esportazione un cosiddetto di leveraging come lo chiamava redaglio cioè diciamo una riduzione della leva finanziaria drastica potrebbe far sì che servono dei dollari per aumentare ripagare questi debiti e visto che non possono stampare dollari i cinesi o altri enti diciamo stati società estere praticamente devono vendere dei beni in valuta locale per comprare dollari per poi ripagare questi debiti visto che non c'è più un mercato disposto a prestare altri soldi o a rinnovare quei debiti ecco in estrema sintesi sarebbe questo quindi vendono valuta locale comprano dollari e di conseguenza il tasso di cambio il dollaro aumenta di valore e questo può creare ricorsi squilibri ovviamente questo è uno scenario che valutavano chiarendo che le variabili nel mercato soprattutto delle valute sono talmente tante talmente complesse che non è facile fare una previsione se fai qui succede di qua cioè non è come un interruttore è una macchina con migliaia di ingranaggi quindi non è semplice però è una questione così che mi ha affascinato anche controintuitiva perché uno penserebbe il contrario così era successo nel 2008 cioè c'era la fuga da tutti gli investimenti verso i cosetti beni rifugio titoli di Stato americani cose del genere per cui a un certo punto per paradosso la domanda di dollari aumentava e quindi si apprezzava la valuta rispetto magari ad altre valute estere ecco era una situazione così particolare però che fa capire anche quanto è complicato fare previsioni e purtroppo uno non può ragionare così banalmente dice c'era una crisi negli Stati Uniti oppure comunque una crisi in Cina che ha ripercussione anche negli Stati Uniti allora perde valore la valuta americana in realtà no e soprattutto potrebbe essere una grossa spinta verso l'inflazione che già stiamo vivendo ecco quindi così sono scenari che continuiamo a tenere d'occhio con degli aggiornamenti ma ho pensato fosse interessante ovviamente fatemi sapere come sempre dico cosa ne pensate anche ecco se magari queste così ipotesi scenari vi convincono magari se ne avete letti altre se ne pensate altre insomma volete aggiungerle insomma ecco io come dico sempre anch'io sono alla ricerca di stimoli e suggerimenti e magari altre idee o ricostruzioni da parte vostra come sempre vi ringrazio e vi saluto ciao a tutti ciao a tutti